Alla fine il tipo è scappato via e indovinate un po' non si è fatto più vedere E' ora di dormire Ma che succede? Perché dobbiamo barricarci in casa? Resta nella tua stanza, Jodie, e non uscire in nessun caso, ricordi? Quello che è successo alle pecore, non voglio che ti accada nulla Ma per l'amor di Dio, Paul, mi dici cosa succede? Vattene nella tua stanza Non puoi fare nulla Ma per l'amor di Dio, Paul, mi dici cosa succede? Vattene nella tua stanza Vattene nella tua stanza Vattene nella tua stanza Vattene nella tua stanza Grazie a tutti. 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 Aiden! Aiden, aiuta me! Aiden! 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 tornando. Se vuoi ci posso andare io. Non credo tu possa farci molto. Farò quello che posso. Dov'è il pozzo? È laggiù. C'è anche un mulino. Lo riconoscerai. Ok. Ci vediamo dopo a Ranch. Ok. A dopo. Ah! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora cosa c'entra? Vedi qualcosa? a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.